ma quante cose da vedere oggi bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video finalmente abbiamo un po di numeri da guardare abbiamo un po di grafici da analizzare bellissimo rimbalzo la scorsa settimana il mercato ha tentato anche il break del livello di resistenza a 42 mila ma non c'è riuscito respinto il primo attacco di bitcoin torna giù tocca i 38 e qualcosa ricarica le forze e ci riprova nuovamente ragazzi e siamo lì siamo ancora attendendo per vedere se bitcoin riuscirà a rompere la barra di congestione che ha bloccato il movimento dai discendente da maggio e poi da qui in poi avremmo il famoso la famosa conferma di nuovo ciclo annuale c'è da dire in ogni caso che già attualmente ragazzi si potrebbe già dire che probabilmente insomma siamo già nel nuovo annuale con una certa dose di probabilità ma lo vediamo oggi perché una serie di grafici da vedere allora guardiamo intanto bitcoin sul grafico a time frame daily per vedere quello che sta facendo e quando potrà andare a innescare una nuova fase di spinta poi guardiamo quello che è uno dei miei trading system che negli scorsi due mesi aveva avviato una short di copertura vi faccio vedere l'inter operazione ovviamente pubblicata dall'inizio in academy come sempre ragazzi e vi faccio vedere che questa operazione è stata chiusa qualche giorno fa dalla sistema questo è stato un bel segnale anche long di lungo periodo ma non lo analizzeremo nel video perché vi spiego anche come va considerato questa cosa poi guardiamo e th perché 12 giorni quasi tutti e 12 giorni di rialzo costante per la regina delle cripto beh direi che non è assolutamente male va bene ragazzi allora oggi sono oggi sono euforico aspetta facciamo una bella cosa perché ho perso il bitcoin o di solito no ragazzi questa cosa porta malissimo ma che perso eccolo qua ragazzi ok va bene ce l'abbiamo e lo facciamo con questo questo video va bene ragazzi in tanti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto poi vi lascio anche il mio canale instagram stranuovo ragazzi lo stiamo implementando vedrò di fare anche un video su i gtv questa settimana dovrebbe uscire proprio credo mercoledì ragazzi allora sto iniziando a sperimentare anche questo canale di comunicazione allora siamo su bitcoin bitcoin ehm bitcoin contro dollaro grafici sempre bitfinex eh ragazzi allora questa la struttura dei cicli eh mensili che abbiamo già visto allora dalla 20 di luglio è iniziato un nuovo ciclo mensile di bitcoin ciclo mensile che ha dato un'ottima eh fase di rimbalzo soprattutto per la sua struttura ragazzi perché ha fatto dieci ehm in realtà diciamo sono nove non proprio dieci ragazzi perché parte da qui ok nove giorni totalmente verdi ehm e la struttura del mensile in questo momento è al tredicesimo giorno in pratica ragazzi sta facendo la chiusura di metà ciclo mensile che è il classico bisettimanale da quindici giorni probabilmente siamo a metà di questo ciclo mensile poi nella seconda metà il mercato potrebbe andare ad aggredire la resistenza 42 mila e qualcosa 40 41 e 2 42 mila e qualcosa insomma quella zona adesso la vediamo vi faccio vedere eh dove sta perché proprio quella è una resistenza abbastanza rilevante c'è da dire che nella giornata del 30 luglio l'aveva breccato questo livello io come sempre sono titubante soprattutto nelle fasi di ehm 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 di quantomeno una close settimanale al di sopra di questo livello 4200, in questo caso che è anche coincidente con questa media mobile che è una media mobile semplice a 17 settimane, vabbè ragazzi allora la uso più o meno per gestire alcuni cicli di natura semestrale, ecco diciamo così, non è un esperimento, quindi non è una cosa che dovete seguire, è un mio semplice esperimento, infatti non ne parlo mai di questa media perché non è che sia molto attendibile, però in questi due casi è stata estremamente rilevante, insomma quindi la continuano a utilizzare, sto sperimentando cose nuove, io lo faccio sempre, pubblico sempre nuovi grafici, nuovi indicatori anche in Academy perché mi vengono delle idee, allora da questo lato in poi, in sostanza da questo punto in poi, la chiusura della metà del mensile, il mercato potrebbe tentare di fare questo tipo di struttura, in questo caso avremo un mensile fortemente rialzista con due minimi che sarebbero fortemente distanziati e poi una break di questa zona, allora da queste considerazioni il fatto che su questo minimo possa essere iniziato un nuovo ciclo annuale aumenta di probabilità questo concetto ragazzi, perché? Perché con un ciclo mensile al rialzo, tecnicamente in una fase del genere, soprattutto se verrà breccata la media 42 in conferma settimanale, insomma potremmo dire che qui è stata chiusa una fase ciclica, sicuramente questo ciclo mensile non appartiene ai precedenti, perché i precedenti avevano una struttura tipicamente ribassista, quindi qui aveva avuto questa struttura, questo è stato un altro ciclo mensile, questo è stato un altro ciclo mensile, questo qui non sembra far parte dei precedenti, è vero che siamo in una barra di congestione, in una barra ci sono molti errori anche da un punto di vista ciclico, ma è anche vero che se poi andiamo a guardare ETH per esempio, questo break della barra di congestione è avvenuto e siccome ETH in questo frangente è estremamente più pulito di Bitcoin, io mi aspetto che dal minimo di luglio probabilmente sia stato concluso il precedente annuale, quello con la fase di pastizia sia iniziato il nuovo, il problema poi sarà capire un dettaglio che vi dico comunque alla fine del video, se no ci blocchiamo in queste considerazioni. Andiamo a vedere poi quella che è la struttura delle candele settimanali di Bitcoin e poi vi faccio vedere anche lo short di copertura che ha chiuso e poi chiudiamo con ETH. La struttura settimanale è molto evidente, allora queste due candele verdi, quindi con un più 11 e un più 12 e 45, hanno dato un segnale molto rilevante di inizio di una nuova fase ciclica, che stia disegnando oggi, semplicemente lunedì, una candela di respiro in questa fase a livello settimanale ci sta, ma ci sta anche ragazzi se continua proprio con una settimana leggermente rossa così prima di fare poi il break. Vi ricordo che tutta quest'area è molto rilevante per Bitcoin perché rientrare all'interno di quest'area con una conferma di candela settimanale significa rigiocare la partita di nuova tentativa di breccare i massimi a 62.000. e questo insomma ragazzi potrebbe in effetti farlo se nelle prossime settimane il mercato accelera breccando appunto i 42.000. A proposito, allora molti di voi mi hanno detto Mauro, canterai la canzone ad agosto. Bene, ragazzi allora c'è il mio famosissimo ormai video dello scorso anno dove dicevo che il target price di Bitcoin per il 2021 sarebbe stato intorno ai 67.000 dollari, abbiamo fatto 64.000 e 865.000 ma io avevo scommesso che se Bitcoin avesse superato i 67.000 avrei cantato una canzone proprio perché perdevo la scommessa contro il mercato. Allora, in questo caso non sto vincendo io ragazzi quindi vinco ancora perciò la canzone non la canto fin tanto che Bitcoin non supera i 67.000 lo doveva fare entro agosto quindi ragazzi al momento vinco io la scommessa quindi vediamo se ce la fa non credo comunque che riuscirà a fare questa cosa e mi dispiace perché avrei preferito perdere la scommessa quindi molti di voi mi hanno chiesto Mauro, canti la canzone? No, perché ho vinto quindi è Bitcoin che deve cantare la canzone, cioè non io io ho vinto la scommessa perché ho indovinato il target price di Bitcoin lo scorso anno in pratica meno 2.000 dollari, ho sbagliato, di 2.000 dollari e boh, in questo caso mi è dispiaciuto proprio indovinare questo target ragazzi che speravo andasse in più su ma non è detto che dopo agosto questa cosa non capiti perché dopo agosto può andare anche 100.000 io ho dato quindi la scadenza e la scommessa era agosto va bene, rivedetevi quel video per farvi una risata, lo trovate anche nella home page del mio canale YouTube perché è proprio il video in evidenza dell'home page perché è veramente anche simpatico nella parte iniziale, allora tutto si gioca tra questa settimana e questa qui questo è il livello di esistenza e il più importante, sotto, a livello di supporto sotto i 35,5 diventa complicato e tutto quello che stiamo dicendo deve essere assolutamente rivisitato e rivisto al rialzo bene, allora vi faccio vedere quello che era la situazione invece dello short di copertura che abbiamo pubblicato, ho pubblicato in Academy il 13 di maggio scorso e poi quando è stato chiuso l'altro giorno ho indicato anche la close perché è stato chiuso il 28 di luglio eccolo qui ragazzi, vi faccio vedere questa operazione allora questo sistema era uno short di copertura che seguiva una logica che ho elencato diciamo ho spiegato nella conference del 2019 a Milano in uno spiccio ho presentato questo tipo di sistema spiegando la funzione che aveva proprio per gli holders cioè era una funzione di copertura, appunto uno short che andava fatto con mi pare ragazzi il 70% dei long posseduti da un holder, quindi fatto 100% per dire ragazzi questo era uno short da fare con 70% ok giusto per capirci mi pare che erano così le proporzioni, non vorrei ricordare male, comunque c'è uno spiccio anche registrato diciamo di quella conference e questo tipo di copertura andava a coprire le fasi di ribasso in maniera tale che il portafoglio da holder non oscillasse in maniera pesante quindi la funzione era di ridurre le oscillazioni cioè flattizzare in pratica la curva di equity dell'holder in maniera prudenziale ovviamente non è una copertura 100% come vi ho spiegato ma è di meno proprio perché è un trading system e quindi ha nelle idee anche la possibilità di sbagliare quindi prendere gli stop loss ragazzi ok e questo è da tenere in considerazione in questo caso ha fatto anche una splendida operazione ragazzi guardate che cosa ha combinato ha coperto il 12 di maggio con lo SE short entry dopodiché qualche giorno fa il 28 ha chiuso in exit questa copertura questo significa che da questo punto in poi anche questo tipo di strategia è uscita dallo short quindi non esiste più la copertura ed è full long quindi in questo momento io stesso ragazzi ho riportato la mia posizione da holder al 100% e sono rientrato non su questo sistema su un altro sistema sempre pubblicato in academy perché questo è un sistema un po' lentuccio allora io ho preferito diciamo non utilizzarlo sbagliando in questo caso forse l'avrei potuto utilizzare perché è stato veramente esemplare ragazzi però sono entrato un po' prima da un punto di vista invece di analisi di quella che era la nostra operazione che in academy abbiamo fatto a livello mensile abbiamo fatto una successione questo mese più 25 passa per 100 una splendida operazione ragazzi la ritentiamo ad agosto vediamo che succede poi magari settembre ottobre faremo un webinar ne parliamo tutti insieme di questo tipo di operatività mi è piaciuta tantissimo ragazzi l'ho utilizzata anche l'eva 2 quindi ho fatto il 50 per cento come trading di breve periodo non come operazioni di lungo termine ma semplicemente trading infatti è stata chiusa a fine mese di luglio proprio perché bisogna reimpostarla da capo e rifare questo tipo di operatività mi è piaciuta moltissimo e soprattutto nella logica un'operazione o più o meno creata questa operazione anche attraverso degli ingressi scaglionati veramente molto bella soprattutto perché non vi fa stare davanti al grafico tantissimo tempo e poi ha delle logiche quantitative ragazzi che si basano sulla volatilità e che è il mio indicatore preferito andiamo a vedere ETH e ETH è uno spettacolo ragazzi è inutile che ve lo dico sicuramente sembrerebbe un rialzo quasi delineato quasi un po' forse pilotato ok diciamo così manipolato forse per la questione del fork sicuramente ci sarà da prendere in considerazione diciamo anche la questione del fork ragazzi e questo è ovvio però io un grafico del genere me lo terrei proprio tutta la vita in cassaforte ragazzi che bellezza che capolavoro che design oserei dire in un grafico di questo tipo intanto ci spara un più 47% in 15 giorni solo candele verdi un grafico con un trend assolutamente pulitissimo non vi nascondo che sono contentissimo di avere gli ETH io li tengo ancora per il farming o i miei ETH insomma classici che sono quelli standard in posizione ne ho perso qualcuno durante cioè non è che l'ho perso l'ho venduto in USD durante la fase di bassista non le ho riaccumulati tutti quindi un pezzettino è rimasto fuori ma non è molto importante ragazzi perché ci sono altre operazioni che sto portando avanti su altre coin allora qui dove siamo siamo già fuori dalla barra di congestione barra che in realtà su ETH non c'è proprio stata perché a differenza di Bitcoin ETH ha fatto solo trend mensili in trend discendente quindi i cicli mensili in trend discendente vi faccio vedere anche l'ultimo che era questo qui da 24 giorni dal 20 di luglio abbiamo un nuovo mensile anche per ETH dove arriva dove non arriva ipotizzando un mensile classico di 30 giorni siamo verso metà del mese di agosto è anche vero che ETH lo guardiamo anche un po' più diratato dei classici 30 giorni proprio perché disegna cicli molto belli e quindi lo vediamo un po' anche più lungo quindi non voglio fare la fotocopia di Bitcoin a livello ciclico però ragazzi questo è un'ottima insomma ragazzi ETH e secondo me nel 2021 io penso che sia meglio di Bitcoin dal punto di vista proprio di trend non di progetto oserei dire insomma non c'entra nulla questa considerazione ma per come è stata ETH per come ha agito ha influito molto bene diciamo è stata molto pulita quindi è una cosa bella da tenere in considerazione perché secondo me per l'intero mercato è molto funzionale poi 2009 e 20 quindi insomma 3000 ragazzi la resistenza da battere sopra questo livello chiaramente ciclo annuale assolutamente confermato ma già io direi che anche qui abbiamo una conferma del nuovo ciclo annuale per ETH secondo me intorno alla 60% sarei dire mentre su Bitcoin mi tengo al 55% ancora da qui in poi saremmo almeno al 70% nuovo ciclo annuale probabilmente se riesce ad arrivare a 3000 tenterà di riprendere un trend i livelli di resistenza tra le altre cose per ETH non sono tantissimi perché abbiamo tutta questa zona di resistenza che non è neanche forte perché poi abbiamo i massimi storici quindi io direi che se fa un break di questo tipo poi si infila in un trend molto più delineato e ha tutte le caratteristiche nei prossimi mesi per poter fare massimi storici ovviamente se ETH fa una cosa del genere sicuramente Bitcoin tenterà anche lui di fare i grandi numeri va bene ragazzi allora la domanda però è anche un'altra perché c'è da dire anche un'altra cosa se questo fosse il rimbalzo del gatto morto allora questa possibilità c'è siamo in bear market e questo rimbalzo è la famosa B di un ABC discendente vi faccio capire quello che sto dicendo cioè un ABC ok quindi questa sarebbe la famosa gamba B di ritracciamento di un bear market già iniziato è possibile questa cosa questa ipotesi quanto peso ha e come possiamo andare a individuare un livello di prezzo che potrebbe essere pericoloso una volta raggiunto se da lì iniziasse una gamba a ribasso lo vediamo nel prossimo video ragazzi ok quindi per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate voi ABC negativo sì o no trend nuovo invece annuale che può tentare di rompere i massimi cosa ne pensate voi ma io ho in mente già di farvi il video per farvi vedere i target da attenzionare quelli pericolosi va bene ciao a tutti buon inizio settimana ciao a tutti buon inizio settimana Grazie a tutti